La realtà è che nessuno abbia accusato Marino di essere direttamente coinvolto in questa vicenda, però se un sindaco non si rende conto che non è che c'era il funzionario corrotto che è agito all'insaputa di tutti, che può starci, può essere, ovviamente si colpisce il singolo, ma c'era un sistema sotto di lui che continuava ad agire indisturbato. Nelle intercettazioni emerge che secondo queste persone che lavoravano all'interno di questo malaffare romano, se Marino rimaneva tre anni e mezzo, continuavano a mangiare per altri tre anni e mezzo. Se uno si rende conto di questo, magari anche si rende conto della sua impotenza, che magari non è un'impotenza colpevole, perché quando c'è un sistema sotto, giustamente condivido Civatti, l'uomo solo non è che è l'uomo dei miracoli, forse Renzi si crede tale, ma non è così nella realtà. Una persona da sola non può. E quindi se non si rende conto di questo e ci andiamo avanti a prescindere, rischia di prendersi a quel punto veramente una responsabilità diretta, perché evidentemente non si rende conto di quanto stava avvenendo e sta avvenendo a Roma. E per questo ne abbiamo chiesto con chiarezza Marino di alle dimissioni. Ricorderanno anche i colleghi, quando successe in Lombardia con Formigoni, che un assessore era in odore di mafia, perché anche bisogna distinguere la gravità ovviamente dei fatti, la Lega ha fatto cadere la Giunta.